Alla Raiffeisen Arena si scontrano due squadre sconfitte all'esordio nel campionato di Serie 2 2011-2012. Da una parte il Caldaro, padrone di casa, superato di misura a Merano nel match precedente per 3-1. Dall'altra il team ospite Lefao Bozen, surclassato invece in casa dalla piano con il punteggio di 6-1. I Lucci ci provano immediatamente in avvio, potendo sfruttare una situazione di powerplay. A rendersi protagonista è Donald Nichols con una gran botta da distanza controllata con qualche affano da Martino Valledarin che deve prestare attenzione anche al tappin di Felix Oberlauch. L'attaccante al totesino ha più fortuna poco dopo, sempre nel corso della medesima superiorità, deviando in maniera vincente una conclusione da fuori di Antti Hilden. Al 2-22 i padroni di casa sono già in vantaggio. Per Felix Oberlauch si tratta della prima realizzazione stagionale. Lefao Bozen paga cara un'altra penalità, nella circostanza in flitta a Manuel Basso. E' ancora Antti Hilden a provarci dalla blu, ma questa volta il tocco del gol arriva dalla stecca di Armin Ambach. All'8.58 si concretizza dunque il raddoppio da parte del Caldaro. Anche per Ambach si tratta del primo sigillo in annata. Superata la metà del tempo si fanno notare in zona gol anche gli ospiti, protagonisti di un'azione veloce ed efficace. Marcus Malfertainer punge sulla destra servendo al centro Franz Josef Planckl che chiama gli straordinati Massimo Camin. Ancora il team del capoluogo sugli scudi in finale di frazione, favorito dai due minuti incassati da Donald Nichols. Stanislav Yashenko conclude verso la porta avversaria con Annes Holtz che intercetta e nonostante l'equilibrio precario riesce a concludere non sorprendendo però Camin tra i gambali. Il tempo si chiude comunque con i padroni di casa vicini al terzo gol. Nichols gira la porta alla grande toccando per Belcastro che impegna e non poco Valle Darin. Al suono della prima sirena il Caldaro conduce dunque per 2-0. Gli ospiti avvantaggiati dalla penalità di Ben Obermeier iniziano il secondo tempo l'attacco a Ralfi. Intranuovo in becca a Roland Battisti ottimo nel dribbling ma neutralizzato nella conclusione da Camin. Poco dopo l'Efa Ubozen non fallisce. Intranuovo spicca ancora come uomo assist. Questa volta l'apertura è a favorire Andrea Gorza al quale lascia partire un bel diagonale che finisce in fondo al sacco. Al 23.57 l'incontro si riapre grazie al terzino Gorza a suo agio nella circostanza anche in zona offensiva. Il team del capoluogo al totesino ci prende gusto e poco dopo affonda nuovamente Tuomo Ariula conquista il pack caparbiamente suggerendo per l'accorrente intranuovo che non angola a sufficienza. A metà frazione ancora in power play torna a farsi notare il Caldaro. Il disco gira bene in avanti ed arriva al battitore Donald Nichols che conclude nel traffico trovando alla fine lo spunto di Alex Frey stoppato dal goli avversario. Prosegue il buon momento dei luci. Dalla sinistra Patrick Juss mette in mezzo pescando la grande Michael Felderer che si fa ipnotizzare da Martino Valle Darin. In situazioni di superiorità i padroni di casa passano per la terza volta. Il disco buono capita sulla stecca di Donald Nichols che dalla media distanza fredda il portiere avversario. Al 35.43 si registra il nuovo allungo dei luci che vanno a segno con il terzino canadese Nichols alla seconda stagione con il Caldaro. Passano la trentina di secondi e arriva pure la quarta realizzazione per gli uomini di Leilin. Su un tentativo sporcato di Rafael Anderkassen Alex Frey si avventa sul disco aggirando il portiere depositando in fondo al sacco. Al 36.14 il Caldaro prende definitivamente il largo grazie al giovane Alex Frey. In finale di frazione Erroraccio d'entra nuovo in contropiede. L'ex Asiago riceve da Ariula ma fallisce clamorosamente una ghiotta opportunità in 1 contro 0. Anche il Caldaro in ogni caso si costruisce la sua chance prima della sirena. Ambach pesca Brian Belcastro fermato da un ottimo Valle Darin. Le due squadre guadagnano gli spogliatoi sul punteggio di 4 a 1. In avvio di terzo tempo colpo del K.O. da parte dei padroni di casa. Azione veloce di Benno Obermeier che suggerisce a favore di Patrick Juss il cui tocco nell'angolino bassa non lascia scampo al portiere avversario. Al 43.01 si concretizza così la quinta marcatura da parte del Caldaro con l'attaccante classe 92 Patrick Juss. Ancora avanti il Caldaro nonostante il cospicuo vantaggio Alex Andergassen prova a fare tutto da solo, lo fa bene ma meglio di lui risulta Valle Darin che evita un'altra realizzazione. A metà frazione nuova occasione per i luci da Rainer a Alex Frey che dopo essere sfuggito al diretto avversario è fermato dall'estremo ospite. L'orgoglio delle Faubozen viene fuori a due minuti dalla termine. L'azione si sviluppa ancora sull'asse Ariula-Intranuovo con quest'ultimo nuovamente lezioso sotto porta. Poco dopo i due si scambiano i ruoli, assist di Intranuovo per Ariula ma il risultato è sempre lo stesso. Il disco non vuole entrare in porta, finisce così 5-1 per il Caldaro che conquista i suoi primi tre punti in campionato. Le Faubozen al contrario rimane fermo a quota zero in compagnia del Pergine.